Lucero D'Alfonso, l'Abruzzo si aspettava una delega, una carica da sottosegretario proprio per lei, che è successo? Io ho potuto ricostruire anche storicamente, progressivamente tutti i passaggi e mi risulta documentalmente che fino alle 6 questo che lei mi ha chiesto, cioè l'incarico di sottosegretario addirittura anche con una delineata materia fosse stato acclarato e sia stato anche inoltrato per le ulteriori conclusive deliberazioni. Poi è successo un incrocio di fattori che in politica rappresenta quasi la normalità, la nota molto avvalorata da parte di alcuni soggetti politici che ritengono che la lotta politica si possa condurre avanti anche rappresentando questioni o problemi agli avversari. Qualche esigenza anche territoriale o di partito che ha fatto in modo che sulla Basilicata ci fosse un supplemento di attenzione e poi un incrocio di esigenze tra una parte e l'altra, PD e 5 Stelle, che ha portato ad esaltare ragioni diverse dalle mie rispetto alle ragioni che io portavo avanti nei confronti di questa regione dell'area politica e del partito. Io quello che posso segnalare è che per quanto riguarda i senatori PD io sono stato tra i primissimi se non al primo posto con la donna autorevolissima che è la Malpezzi e per quanto riguarda anche l'area politica di appartenenza all'interno del PD so di essere portato avanti e di essere stato portato avanti con un'evidenza primaria. Nelle fasi conclusive dalle 6 di mattina fino alle 8 è successo un soprassalto di elementi di disturbo. Quali sono questi elementi di disturbo? Allora quello che ho già cercato di delineare probabilmente ha giocato anche diciamo l'opinione di chi non essendo mai pervenuto all'interno di questa lista ha ritenuto di essere un risultato anche ostacolare l'arrivo o la presenza da parte mia. Io quello che posso dire è che in politica accade normale. Sono contento che l'Abruzzo comunque abbia un sottosegretario anche di competenza diciamo orizzontale come quello con delega ai rapporti col Parlamento. Si tratta di Castaldi dei 5 Stelle e sono molto contento. Nel mio caso si sarebbe trattato di infrastrutture, rivendico anche una grande conoscenza di questo settore. Ho detto questa mattina con la comunicazione di ogni sabato che faccio che si chiama avviso di garanzia che per portare avanti gli impegni pubblici servono studi di sicuro, esperienza altrettanto ma più di tutto vale la motivazione. Io a Castaldi auguro la motivazione che ti sorregge quando il lavoro è difficile. Io avrei messo sul tavolo, motivazione, studi e anche molta esperienza. Non finirà qui il lavoro al servizio della Regione. Io faccio parte della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sono capogruppo, sono nella Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano e faccio parte anche della Commissione bicamerale sulle questioni regionali che dovrà affrontare il tema del federalismo regionalista. lavorerò di lì a favore dell'agenda della Regione, sapendo che a differenza di 14 mesi fa adesso sono in maggioranza e io non vorrei essere al posto dei problemi avendo me in maggioranza. Poveri problemi che dovranno essere affrontati, poiché io non sono mai stato un elemento di abbellimento. Senta, però il segretario Fina parla di questione Abruzzo, non c'è una questione Abruzzo? Fina fa il suo lavoro, ma la partita era molto più grande del PD regionale. Naturalmente c'è qualche astuto che ha lavorato contro la Regione, però su questo avremo modo di farlo emergere, avremo modo anche di trovare rimedio. Personalmente non mi risparmierò e assicuro che le letture che ho fatto alla Facoltà di Scienze Politiche di Teramo, con la guida di Luciano Russi, Lorenzo Ornaghi, Rocco Buttiglione, Sergio Turone, Silvio Lanaro, Gabriele Turi, che mi hanno insegnato la dottrina dello Stato, le dottrine politiche, il pensiero politico, la filosofia politica, mi fanno dire che tutto ciò che è accaduto è nella regola della vicenda politica.